Cosa volete da me? E cosa posso darvi? Adesso ne parliamo, ma prima lasciate un mi piace al video e iscrivetevi a questo spazio se già non lo avete fatto. Allora, ho aperto un nuovo canale YouTube, Michele Posa Pop. Zero contenuti, per ora, con l'idea di dedicarlo ai manga, agli anime e alle altre mie passioni nerd. Vi siete già iscritti in più di 100. Per monetizzarlo dovrò arrivare a 500, ce la possiamo fare. E poi, cosa molto più difficile, invece, fare 3000 ore di visualizzazione complessive in un anno. Intanto, grazie, perché mi state dando fiducia sulla carta. E anticipo già che non so se poi partirà qualcosa o meno. Sono in corso delle valutazioni. E dico questo perché è accaduta una cosa che mi ha fatto riflettere. In pratica, ho realizzato già due contenuti di prova. E, contento con i palloncini che sono volati poco fa, li ho fatti vedere ad una mia amica nerd, confidando nella sua approvazione. Anche perché quelli erano degli stampi, no? Dei numeri zero, per aprire delle rubriche su quegli argomenti. Allora, un video è sulla storia di una carta di Magic, per me iconica, col sottoscritto che spiega perché l'ha adorata. E racconta i rimandi letterari bellissimi dell'illustrazione e della didascalia della stessa. In cinque minuti vado a toccare Dante, un paio di canti della Divina Commedia e il poeta e filosofo Tagore. Quindi, da Magic, si spazia nella letteratura. L'altro video è una recensione di un fumetto autoconclusivo che ho letto di recente gradendolo molto. Il risponso dell'amica è stato Mick Mi chiama Mick, non Bardo Hai raccontato bene, come sempre. Però io questi video non li guarderei. Allora, le ho detto, scusa ma come mai? Lei non mi segue per il wrestling, non gliene frega nulla. E forse siamo amici per questo, non lo so perché, nella quotidianità ho anche bisogno di parlare di altro, no? Gli ho detto, ma come mai? E lei? Perché sei moscio. Nella vita quotidiana, appunto, normale, sei brillante. Fai ridere il tavolo, in tv te ne esci le poche volte che ti ho sentito con robe assurde, creative, improvvisate. Qui invece sembra una lezione all'università. Di quelle in cui ti addormenti. E allora, ho messo in relazione quella sentenza anche con ciò che vi propongo sul wrestling, su questo canale, o sugli altri che amministro. Michele Posa News & Rumors, con le notizie, e Michele Posa Rewind, dove ripubblico il meglio di quello che faccio su Twitch insieme ai ragazzi che si sono offerti di darmi una mano. Tra l'altro, ora con loro, in pluripiattaforma, diffondiamo diverse delle live che prima erano esclusive del Viola, perché sono cambiati, del Social Viola, perché sono cambiati dei regolamenti. E mi sono domandato, no? Ma non è che io stia, in qualche modo, sbagliando Target? e che oltre allo svantaggio di non proporre le immagini degli show, è un discorso vecchio, insomma, lo sapete, l'abitudine ad aderire a certe regole, chiamiamole televisive, ecco, non è che quando si accende la luce della registrazione quella mi priva di ogni bollicina e d'acqua frizzante mi fa diventare liscia? Alla fine, due delle più importanti agenzie di talent web d'Italia negli ultimi anni mi hanno detto la stessa cosa. L'una ignara dell'altra. Molla il Target Wrestling. Su internet quel pubblico non ti fa vivere. Tu non lo buchi. Hai delle skill lessicali e comunicative impressionanti. Entra di peso e di getto in altre categorie. Col wrestling monetizzi in tv. Sui social devi farlo con altro. Io mi sono sempre opposto pur comprendendo la loro filosofia. Perché anche se dai miei profili ci tiro fuori economicamente la mancia per le caramelle e non è una critica, è semplicemente una fotografia realistica, so che se smetto di pubblicare è una cosa negativa per tutto il movimento. Per motivi futuristici che in parte vi ho già spiegato in altri video di questa collana. e che vanno ben oltre la vanità di poter dire oh guarda che numeri o che ricavi. Però io a quei numeri e a quei ricavi ogni tanto un'occhiata devo darla perché ci investo tantissimo tempo. Voi non me ne accorgete perché chiaramente non ho un comparto tecnologico che mi monta i video e io su quel settore sono una schiappa e se da una parte sono contento di questa rubrica qui che state visionando ora dove parlo a ruota libera e farò di tutto impegni permettendo per tenerla attiva almeno sino a dicembre dall'altra parte sembra esserci una vastissima platea che guarda contenuti di wrestling su youtube alla quale, di quello che faccio io, a prescindere non gliene può fregare di meno. E allora non vorrei sbagliare il vestito nemmeno dedicandomi al pop, al nerd, al fumetto, ai manga, agli anime e così via. A 45 anni larghi mi sento davvero per la prima volta forse in grande difficoltà a capire il mio pubblico cosa vuole, che gli interessa sempre che un mio pubblico esista perché magari sono un maradona ma solo in tv e sui social non posso andare oltre la panchina eterna alla crisantemi e quindi vorrei usare un po' questa finestra oggi per chiedere a voi cosa vi piace di quello che propongo cosa vi tiene qui e se per caso invece mi seguite a singhiozzo cosa no? Cosa vi allontana? Cosa vorreste che aggiungessi sia in ambito wrestling che eventualmente per il nuovo teorico canale sapendo che sul fronte WWE comunque io ho dei muri che non scavalco un paio di concetti sono qua che fermentano però magari sono mie suggestioni quindi ci tengo davvero tanto oggi a leggere quello che mi scriverete nei commenti così verifico se qualcuno si è sintonizzato su questa frequenza qui per ora nascosta oppure se sono maternità cognitive solo mie dunque in questo caso su questo video più che mai adesso con dita roventi c'è bisogno di voi forza il tema è chiaro fatevi avanti